Siamo con Niki Giusino, Camera Ardente di Bud Spencer, tu amavi molto i film di Bud Spencer, è vero? Beh, chi è che non ha... se non ha amato almeno visto un film di Bud Spencer? E' Terence Hill, chiunque penso abbia visto... Stati a decine... Io penso Banana Giomosa, l'ho visto... Bomber, Piedoni, Piedoni, Pugno di Dollari, Banana Giomosa, l'ho visto una quindicina di volte... Hai fatto tu questo disegno, carino, il disegno pure è bene... Vabbè, non è proprio... Uno dice, perché hai fatto col fuoco qui, stile western? Ok, parecchia gente oggi, la Camera Ardente al Campidoglio dalle 10... Eh, ma già da prima c'era un sacco di fila che arrivava... Alle ore 19... Alle ore 19... Le fanno entrare, le fanno entrare, le fanno entrare, le fanno entrare... Vabbè, ma è una persona amata dal popolo, il premio di Bud Spencer è il popolo, ecco... Sì... Perché i premi non ce ne ha mai avuti, che sono molto contrario a questa cosa... Perché una persona va ricordata in vita, tutti i giorni... Non va ricordata da morto che gli vogliono dedicare una piazza, che ce se ne fa di una piazza? Bud Spencer è stato sempre riconosciuto... Vabbè, ma meno un Oscar gli avrebbero dovuto a lui... Forse per altri generi di attori... Vabbè, un premio importante gli avrebbero dovuto da morto, lo vogliono ricordare con una piazza... Questo è stato campione di moto italiano... Infatti c'è pure la polizia... La polizia, perché lui faceva parte della polizia... Sì, la polizia del muoto... Sì, le fiamme oro... Quando una persona è brava nella vita, è buona pure da morto... Sì, c'era il figlio che gli assomiglia anche... Abbiamo visto il figlio... Gli assomiglia? Stesso gli assomiglia parecchio... Un po' più basso... Ah, una cosa che non sopporto... Io sono entrato, ma da distante, perché a me i morti mi fanno far pressione... Però ho visto persone che facevano le foto proprio sopra la bara... A me che sono... Vabbè, si usa a fare eh... Eh, però... Anche a Papà Voitila, mi ricordo... Io fanno... Non mi piace quando fanno le foto dei morti... No, no, non possono pubblicare... Ciao!